Sono contenta perché veramente è ancora a distanza di tanti tanti anni, perché a me sono 15 anni e ieri mi ha chiamato Riccardo Biseu che è uno straordinario musicista, jazz, molto bravo, il cui figlio ha 9 anni e mi ha detto Francesca ti voglio far fare il mio figlio che ti vuole salutare perché è innamorato della tua canzone. Eppure penso a una canzone che ancora nel tempo rimane, credo che sia una soddisfazione più grande perché poi evidentemente al di là delle mode, le canzoni adesso nascono e dopo un mese o due non si ricordano più, forse è una delle ultime canzoni che è rimasta un po' nel cuore dello gente e non è un caso che sia diventato un successo mondiale in italiano. Tra l'altro in italiano, sì questa è la cosa fondamentale, tra l'altro è stata ripresa anche da… In America Latina, infatti poi l'ha cantata anche Jennifer Lopez in spagnolo con Mark Anthony perché era già un successo lì, grandioso. Quindi è straordinario il messaggio come può superare le mode, i tempi perché veramente sono stati 15 anni, se ci pensi, ancora questa canzone si ricordano il testo. Per me è una grandissima soddisfazione enorme e soprattutto non è solo una canzonetta ma nasconde un messaggio molto molto importante, quindi la voglia di innamorarsi, di superare le diversità, le difficoltà che possono esserci nella vita, quindi è veramente un grande messaggio. Esatto. Previ di ogni sentimento. Qua sembra ormai che vinca solo il messaggio più duro, più cinico, che vinca la persona che ha meno sentimenti, no? Poi una persona brava, buona, viene considerata quasi stupida, oggi come oggi. Ma questo potrebbe essere a prima vista poi alla fine, al primo impatto. Che è anche il titolo di un film tra l'altro, neanche a farlo apposta esiste davvero un titolo di un film che si chiama così a prima vista. Devo dire questo umorismo di Jerry, l'umore cieco a prima vista, tutto legato poi dall'altro. Guarda, se proprio la devo dire tutta in questo momento, considerando l'ora comincio ad avere un certo langurino e non ci vedo dalla fame e te ne potete dire veramente una parella. Vedi, ma la cosa buffa è che anche Leandro ha questo modo ironico di scherzare ed è bellissimo. Eh, quanto tempo che non ci vediamo? E' buffa, è troppo simpatico perché all'inizio ti lascia un po' perplesso perché magari non sai come affrontare. All'inizio non sai come parlare, come esprimersi, non hai paura magari di dire una cosa, di ferire, no? E invece quando poi conosci determinate persone che soprattutto hanno una capacità di ironia fortissima, di grande ironia, si supera questa cosa a volte ed è pure bello anche giocare sulle difficoltà, sulle cose, magari ironizzare, no? Se ci si prende un po' in giro a volte anche le cose diventano meno pesanti forse, no? Infatti, è vero. Certo, certo. C'è Tiziana che voleva... No, volevo dire che comunque, non so se tu hai avuto modo di frequentare altre persone non vedenti, oltre ad Aleandro, però loro il verbo vedere lo utilizzano, cioè loro dicono ti ho visto in televisione, ho visto questo film. Sì, sì, incredibile! Anche le... oh, finalmente ci vediamo, insomma, comunque è un intercalare nel loro modo, cioè non è ironia quella, quella è proprio... No, no, a volte però fanno proprio l'inonia, non io mi ricordo, cioè, molte volte dicono, eh, ti vedo ingrassato, ma che... Ah, sì. Quindi mi ingrassano, cioè, almeno Aleandro è così, è buffissimo, è di una simpatia straordinaria, un uomo ha una forza, e poi ti dico, ho raccontato l'altra volta che lui, appunto, ha tante volte un caraggio pazzesco, magari mi ricordo c'era un mare molto, molto arrabbiato quel giorno, e io avevo paura di fare il bagno, no, ci penso io, insomma, mi ha portato in acqua, mi ha portato su, con una tranquillità, una naturalezza, proprio... Si butta lui col paracadute, cioè, va in bici, ci fanno delle cose incredibili, vedi che a volte noi, i nostri limiti più grandi, in effetti a volte risiedono nella nostra mente, poi soprattutto, per l'incapacità di superare questa... Scusami, ti interrompo, noi nel nostro lavoro teatrale, noi ci siamo dati uno slogan, che è questo, l'handicap non come limite, ma come risorsa. Ecco, ma quello che proprio che sostenevo io, infatti, cioè, la grande capacità di trarre dalle difficoltà un insegnamento, la capacità di vivere intensamente con le cose, con grande, grande emozione, perché è quello che abbiamo perso oggi come oggi, e quindi si può imparare tantissimo da tutti, e soprattutto le persone che hanno difficoltà, che hanno problemi, può imparare veramente ad assaporare la vita, nel vero senso della parola. Ce n'era un altro slogan, siamo tutti un po' disabili nel sapere chi siamo. Pronto? No, no, diceva Tiziana... No, dico, oltre a questo, ce n'era un altro, no? E poi la consapevolezza, mi senti? Sì, a volte a trattare i spazi. Era la consapevolezza, poi, di capire veramente chi siamo, no? Che era, siamo tutti un po' disabili nel sapere chi siamo, nel momento in cui tu ti rendi conto dei limiti, del... Come no, come no, come no, come no. Francesca, ascolta, io tengo molto al fatto che tu resti ancora con noi qualche minuto, però, dato che incompe la pubblicità, io vorrei lasciarti per un attimo, poi ti vorrei ascoltare, insieme a te, non amarmi, e poi ritorniamo tutti insieme in studio. Ok, io sto facendo le prove, quindi sono messo tutto in pausa. No, allora, no, allora non voglio assolutamente... Però avrei piacere sicuramente di... Quando farete qualcosa, chiamatemi perché mi fa molto piacere, è sicuramente una grande esperienza. Noi ti invitiamo ufficialmente a venirci a trovare qualche venerdì al laboratorio, perché ci farebbe piacere conoscerti di persone e perché no, potremmo anche veramente avere uno scambio. Grazie, d'accordo. Quindi sarei invitata a venirci a trovare. Ok, è stato un piacere, un bacione a continuare così, è una bellissima cosa e spero che aiuti un po' di persone a riflettere sulla vita, sul senso della vita, la voglia di superare ogni difficoltà che può essere e che può capitarci nella vita, insomma. Però la vita è meravigliosa. Grazie per il tuo intervento, Francesca. Ma chiesti, grazie a voi. Ti auguriamo buon lavoro perché stai facendo le prove col tuo gruppo. Sì, vi chiedo perdono se devo andare via, ma siamo appositamente qui insieme perché dobbiamo cominciare fra poco la turnessa e un po' indietro. Quindi perdonatemi se non mi trattengo ancora. Comunque facciamo ascoltare noi, dopo la pubblicità, la tua voce con quella di Aleantro Baldi, appunto, con Nona Magli. Ritorniamo insieme in teatro di 15 anni, esattamente al 1992, Sanremo 92, in cui Francesca Lotta ha trionfato con Aleantro Baldi a Sanremo, appunto, tra le nuove proposte. Di nuovo Francesca, grazie mille. Ciao, un beccone a tutti voi. Salutiamo Francesca Lotta, la linea passa alla regia ai nostri Matteo e Giuseppe, prima la pubblicità e poi non amarmi. Da Sanremo 1992, Leandro Baldi e Francesca Lotta.